Musica Musica Amici di Sottoscacco, ben trovati. Nuova puntata, nuova partita. Quest'oggi avremo un giocatore che si è giocato alle sue carte nell'ultima campagna elettorale di Palermo. Un grande piacere avere qui, quest'oggi a Sottoscacco, Ugo Forello. Benvenuto. Salve, buonasera a tutti. Allora, io le chiedo subito se è un giocatore di scacchi. È una domanda che faccio un po' a tutti. Non sono un giocatore di scacchi, conosco le regole ma non gioco. Ci sono molte similitudini tra scacchi e politica. L'abbiamo trovata in questi giorni con i nostri vari ospiti perché bisogna essere spietati, così come nella politica. Lei è d'accordo? Non penso che la politica dovrebbe essere il luogo dove si debba essere spietati. La politica dovrebbe essere il luogo dove i cittadini partecipano alla gestione della cosa pubblica. Probabilmente oggi la politica è diventata qualcosa altro. Uno dei motivi forse per cui a Palermo sono andati a votare in così poche persone. È che è un tema che comunque toccheremo sicuramente nel corso di questa nostra partita. Io parto con la prima domanda e dunque con la prima mossa che quasi sempre per me è un'apertura molto semplice per capire un pochettino, per acclimatare anche l'ospite alla nostra trasmissione. Anche se questa domanda un pochettino colpisce metabolizzata la sconfitta a due settimane dalle urne? Ma se dico sconfitta si può parlare, sì. È evidente che i risultati non ci hanno premiato. Noi volevamo vincere e quindi nel momento in cui non abbiamo vinto certamente e quindi diventare forza politica che amministrava questa città. Questo non è successo. Il picchiere però va visto, può essere visto anche a mezzo pieno. Noi correvamo da soli di fronte ad altri competitori che avevano sette liste ciascuno. E come dimostrano i dati e lo scrutinio, l'effetto trascinamento delle diverse liste ha premiato gli altri candidati sindaco. Hanno avuto questi candidati sindaco molti meno preferenze rispetto alle preferenze di liste. È evidente che quindi questo effetto trascinamento è stato preponderante. Nonostante ciò il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica a Palermo. Abbiamo cinque consiglieri comunali per la prima volta dentro Palazzo delle Aquile. Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle è stato votato oltre alla propria lista perché io ho ottenuto circa il 16% di voti, cioè tre punti percentuali in più della nostra lista. E poi il Movimento 5 Stelle ha avuto il consigliere comunale più eletto che ha ricevuto più voti e che quindi sarà dentro il Palazzo delle Aquile. Inizia quindi un percorso che probabilmente determinerà e butterà le basi perché fra cinque anni davvero al governo di queste città ci siano i cittadini e quindi il Movimento 5 Stelle. Quello della lista è una scelta di grande coerenza rispetto alla storia del Movimento 5 Stelle che a Palermo ha conosciuto anni di feudalismo che amano importanti. Perché comunque Palermo è una città che è diventata negli anni abbastanza grillina. Però possiamo definirla una scelta che non paga alle urne con questa legge elettorale? Ma vedi, il problema è un altro. Certo che è una scelta che non paga, ma qui in gioco è una scelta di opportunità con una scelta di coerenza. E noi siamo per la coerenza e siamo disposti a perdere sempre, fin quando i principi di coerenza, fin quando il principio di buona politica, fin quando i cittadini non sceglieranno, non tanto per l'amico che è candidato piuttosto che il parente, ma per le idee e i progetti che ci sono all'interno di una azione politica, noi siamo disposti a continuare a perdere. Però è un percorso che a nostro avviso ha già manifestato una profonda crisi. Cioè se più della metà dei cittadini palermitani, perché sono più della metà dei cittadini palermitani, non si sono voluti esprimere tra i soggetti che non sono andati a votare e le schede bianche nulle, questo significa che più della metà dei cittadini palermitani intanto ha rotto con quello che era il sistema della raccolta dei voti che potremmo definire clienterare attraverso appunto la prolificazione delle liste. Adesso noi dobbiamo in questi anni attivare un altro elemento, che è quello di portare o riportare i cittadini palermitani a credere nel fatto che ci possa essere una politica leale, una politica che è basata su rapporti di fiducia con i cittadini, una politica che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Abbiamo cinque anni di tempo per lavorare su questo. In questa campagna elettorale i tempi erano talmente brevi che i disillusi, quelli che non ci credevano più, non li abbiamo convinti, anche perché in campagna elettorale è facile vedersi. Noi abbiamo già con i centinaia di attivisti che ci sono nelle diverse circoscrizioni, hanno già organizzato attività sul territorio. Stiamo parlando di attività che verranno realizzate quartiere per quartiere, lontano finalmente dalle elezioni che dimostreranno che il Movimento 5 Stelle e i suoi attivisti hanno a cuore il bene di Palermo. E se si farà così, se da questo momento fino alla prossima tornata elettorale, il Movimento 5 Stelle farà comprendere quello che davvero è un Movimento di cittadini che è disposto a spendersi per il bene della città, senza secondi fini, senza altri interessi, io sono convinto che alla prossima tornata elettorale avremo molti più cittadini palermitani che andranno a votare e che anche con la presenza di molte liste dalle altre parti riusciremo a vincere quella partita. Allora, intanto la invito a giocare se vuole, così rispondiamo anche perfetto. Allora io muovo il cavallo. Stiamo parlando della parte bianca, quindi chiara, del Movimento 5 Stelle, però ci sarà anche tempo, a modo di parlare di una parte un po' più scura o oscurata, poi andremo a vedere in qualche modo se le due cose coincidono o meno. Allora, batto ancora una volta su questo tema perché ogni qualvolta nei nostri studi viene un ospite del Movimento 5 Stelle, è una domanda che mi piace molto porre ed è le idee ci sono, sono la base del Movimento 5 Stelle, anche con la quale a livello nazionale, regionale e locale avete fidelizzato in questo modo l'elettorato, ma se le idee ci sono e i numeri non ci sono politicamente non si può fare progresso, non si può portare avanti. E allora il tema delle coalizioni è qualcosa che ancora è completamente lontano dall'ideale 5 Stelle? Ma anche questa è una domanda che richiama i principi di coerenza, cioè noi come facciamo a fare coalizione con vecchi partiti o vecchi politici che sono quelli che hanno portato la nostra regione, la nostra nazione, anche la nostra città in parte, nelle condizioni in cui si trova, cioè nel momento in cui abbiamo di fronte al Movimento 5 Stelle quella che è una politica autoreferenziale, una politica che agisce attraverso sistemi di delega in bianco, tu votami, poi ci penso io. Il nostro modello è totalmente diverso, il nostro modello parte da una democrazia dal basso, parte da sistemi di partecipazione che permettono a tutti gli iscritti del Movimento di costruire le nostre proposte di legge, le nostre azioni politiche. Allora, se altre strutture partitiche approvassero o si adeguassero a quelli che sono questi principi, è ovvio che la possibilità di una collaborazione ci potrebbe essere, ma siccome, come voi sapete, come tutti i cittadini sanno, il potere dei vecchi politici e dei vecchi partiti è volto al mantenimento e alla conservazione di ciò che si è guadagnato e non c'è nessun interesse di cedere questo potere, ma bensì di mantenerlo e consolidarlo, siamo due modelli, due modelli proprio di vita e di intendere la politica totalmente diversi. Però gli altri stanno coalizzando per non far vincere. Ma questa è la situazione e noi lo sappiamo, però, ripeto, per i valori in cui si crede si deve essere anche disposti a perdere, si deve essere anche disposti a perire, perché altrimenti la nostra battaglia che è nata proprio per difendere quei valori non avrebbe ragion d'essere. Allora, che ben si coalizzino tutti? Noi siamo convinti che adesso, in un periodo più o meno breve, i cittadini capiranno, comprenderanno queste dinamiche e allora se le comprenderanno non ci sarà grande coalizione che terrà rispetto a un progetto politico innovativo dal basso che è posto in essere sulla base di principi, di valori che sono rappresentati dalle nostre 5 stelle, che sono rappresentati soprattutto da quelli che sono i principi di giustizia sociale, di equità, di rispetto per le persone, per l'ambiente, di sviluppo sostenibile. Tutto ciò attiene alla nostra battaglia e quindi noi siamo ancora convinti che le nostre scelte di non fare coalizioni con nessuno siano quelle corrette. Ciò non significa che poi su singole questioni non si possa raggiungere un accordo, l'abbiamo divostato mille volte. Noi siamo una forza, finora siamo stati forza di opposizione, leale ma intransigente, ma ciò non ha escluso il fatto che il Movimento 5 Stelle più volte sia stata anche una forza propositiva, perché noi le idee le abbiamo e ne abbiamo anche tante, le abbiamo più volte proposte, le abbiamo fatto all'interno del Parlamento nazionale, le abbiamo fatto più volte a Lars. Poi torneremo anche chiaramente su questo argomento. È stata una campagna elettorale corretta secondo lei a Palermo? Beh, questa è una domanda molto importante. Noi abbiamo fatto una delle campagne elettorali penso più corrette nel rispetto delle regole forse mai avvenute. Dalle altre parti probabilmente questo, anzi certamente questo non c'è stato. Mi riferisco intanto alla violazione di quelle che sono le normative relative appunto alle campagne elettorali, alle affissioni abusive, alla distribuzione anomala di materiale propagandistico. Noi abbiamo da questo punto di vista dal primo momento rispettato ogni regola che prevedevano i nostri regolamenti, le nostre norme. Da un altro punto di vista abbiamo segnalato nel corso della, non solo noi, anche altre forze politiche, comunque nel corso dell'11 giugno diverse anomalie che avvenivano vicino ai seggi. Candidati che stavano lì ancora a distribuire volantini, presenze particolari o comunque strane. Abbiamo più volte avvisato la Digos, la quale ci ha detto guardate purtroppo abbiamo diverse segnalazioni, noi abbiamo solo sei auto, non possiamo girare tutto. È un problema culturale, è però un problema direi popolare, cioè nel senso che a un certo punto il cittadino, a questi politici dovrebbe metterli veramente alla porta, li dovrebbe allontanare lui stesso dai seggi elettorali, perché questi comportamenti sono comportamenti che levano ai cittadini la dignità di essere tali. E sulla dialettica invece? Tra candidati? Mi riferisco chiaramente alle accuse nei suoi confronti, inerenti a intercettazioni, inerenti a... Ma è stata una campagna per quanto riguarda il candidato del Movimento 5 Stelle molto avvelenata, cioè io ho ricevuto, nonostante non sia mai stato sia un incensurato, non abbia alcune indagini, venga da un percorso che sapete tutti è un percorso che a Palermo ha creato e ha determinato la storia del Movimento della lotta alla mafia, come quello di Addio Pizzo, sono stato oggetto di accuse, di veleni, che nessuno degli altri candidati, seppur alcuni di questi erano indagati per reati abbastanza importanti e seri, hanno subito. Si è fatto una radiografia della mia vita, delle mie relazioni, dei miei rapporti parentali. Benvenuto in politica, questo è stato il benvenuto in politica. Però devo dire che l'attenzione particolare che hanno, ovviamente, io sono onorato per carità, che hanno riservato a me, non l'hanno riservata agli altri candidati, anche perché probabilmente il Movimento 5 Stelle è quella forza che, essendo molto più fuori dai giochi, perché non gioca, ma cerca di gestire, è quella che più viene vista come una minaccia dal potere costituito e quindi la mia persona è stata molto attenzionata e l'avevamo messo in conto. Chi non ha nulla da nascondere ha la coscienza pulita, ovviamente va avanti e questa è stata la forza mia e dei tantissimi cittadini e attivisti che sono insieme, sono stati insieme a me. Io attendo la sua mosse, intanto le pongo un'altra domanda. L'altra domanda è questa qui, intanto può tranquillamente giocare, Alfiere. Le partite le gioca in maniera molto decisa, adesso vedrò come rispondere. si sente per quello che, parlando del Movimento 5 Stelle a Palermo, sappiamo benissimo che la spaccatura inerente a quello che è successo con l'inchiesta denominata giornalisticamente firme e false, ha un po' probabilmente distrutto quella che era l'integrità del Movimento 5 Stelle a Palermo, che negli anni si era creata e probabilmente questo, chissà, avrebbe portato a un altro risultato elettorale e politico. Si è sentito nel posto giusto ma al momento sbagliato? No, non definirei il posto giusto al momento sbagliato. Devo dire che io ho l'onore e l'onere di avere partecipato insieme a tantissimi altri attivisti a una fase di ricostruzione del Movimento 5 Stelle a Palermo, perché il caso delle firme false, che è un caso che ha molto colpito certamente il Movimento, non tanto, lo voglio ribadire, per la qualità del reato o la pericolosità dello stesso, ma più che altro per la reazione che hanno avuto alcuni soggetti indagati rispetto a questa vicenda. Però il Movimento 5 Stelle, e questo molto spesso si fa fatica a ricordarlo, è stato quello che per primo in fase di indagini ha sospeso tutti i parlamentari e tutte le persone che in quel momento erano interessate al caso delle firme false, cioè ha fatto qualcosa che negli altri partiti, diciamo... Il suo coinvolgimento come se l'è spiegato? Il mio coinvolgimento, che non c'è stato, nel senso il mio coinvolgimento c'è stato nella misura in cui io all'interno del Movimento e come attivista ho sempre richiesto a tutti le persone all'interno del Movimento una massima collaborazione alle forze dell'ordine, cioè io come tantissimi altri ritenevamo e riteniamo che un Movimento come quello che noi rappresentiamo abbia sempre il dovere di collaborare con la giustizia e non di avere dei comportamenti invece di chiusura. Questo è avvenuto da alcuni soggetti che poi sono stati messi, come ho detto prima, alla porta del Movimento e che oggi non rappresentano più il Movimento. Quindi seppur una vicenda che ha sicuramente danneggiato in parte l'immagine del Movimento, come ne siamo usciti, il modo con cui è stata trattata e la capacità in questi mesi di campagna elettorale di creare nuovo consenso e una rinsaldata e anche numericamente parlando congura base, ha posto le basi perché il Movimento 5 Stelle oggi a Palermo sia probabilmente la forza che può contare sul maggior numero di attivisti, di persone presenti sul territorio nelle varie circoscrizioni. Siamo all'alba di un nuovo inizio che è stato già rappresentato da un risultato significativo in queste elezioni, ma che ci ha donato soprattutto la presenza sul territorio con tantissimi attivisti, cittadini che si sono avvicinati al Movimento, che sono del Movimento e che faranno poi la storia di questa città, ne sono convinto. Ritiene onestamente che senza questo scandalo, questa disunione, potesse, sarebbe potuto essere un risultato diverso? Perché sentir dire al vecchio candidato, nel Movimento 5 Stelle, 5 anni fa, Ugo Forello non è il nostro candidato, è un qualcosa che indirizza i nutiani in questo caso, anche nel loro voto. Sì, sì, sì. È ovvio che fatti del genere non possono che creare dei rinculi negativi all'interno di una campagna elettorale. Quindi non so per quanto abbia inciso, ma ha inciso. Fortunatamente questi personaggi che si sono comportati in maniera così talmente scorretta, oggi non possono più parlare a nome del Movimento 5 Stelle, sono fuori e definitivamente dal nostro Movimento. Però intanto il danno l'hanno fatto. Il danno l'hanno fatto, ma il percorso continua forse più forte di prima adesso. Parliamo un pochettino di Ugo Forello, anche prima, del Movimento 5 Stelle. Lei entra a far parte del Movimento nel 2014, ma ha un passato da attivista, cofondatore di Adio Pizzo, che poi se non sbaglio lascia nel 2015, anche come socio. Sì. Sono ve l'errato. Lei si definirebbe più attivista o più avvocato che poi è il suo mestiere? Perché secondo me nel ruolo di avvocatura l'attivismo un pochettino stona. Ma dipende molto come si concepisce la professione. Io mi definirei un avvocato attivista. Assolutamente sì. Devo dire che per come ho inteso sempre la mia funzione professionale, ovvero con un grandissimo valore e valenza sociale del fare, dell'essere avvocato, allora questa definizione è appropriata. Io nella mia vita ho fatto tantissimo attivismo come volontariato, ma la mia professione, che adoro, amo di avvocato, l'ho sempre svolta ricordandomi la fondamentale funzione sociale che l'avvocato dovrebbe avere e deve avere all'interno della società. L'avvocato dovrebbe essere un facilitatore giuridico di determinate dinamiche, non un soggetto che invece magari favorisce il contenzioso perché più cause ci sono magari e più, ovviamente questo è di vantaggio. Io ho sempre seguito l'indirizzo della funzione sociale del fare, dell'essere avvocato. Non si fa, probabilmente anche questo, non si esercita l'attività di avvocato, si è prima di tutto un avvocato. Questo condiziona anche il tuo modo di porti. Vorrei fare una domanda che può sembrare banale, ma a chi non è nel grande meccanismo della giustizia magari può interessare. Un avvocato deve perseguire, credere nella verità o vincere le cause? No, un avvocato ovviamente deve vincere le cause, ma contemporaneamente un avvocato deve avere e ha un suo codice etico per cui deve comportarti sempre in maniera corretta nel rispetto degli altri e nel rispetto anche della verità. Dal punto di vista, diciamo, della disamina che tu mi hai fatto questo comporta che ci sono degli avvocati, per esempio, che sono obiettori di coscienza su determinati reati o su determinati fatti. Io per esempio, per scelta personale, non mi sono mai occupato di reati di pedofilia e non mi occupo di reati di mafia. Non perché anche questi soggetti non abbiano il diritto di avere ovviamente una difesa, una difesa che è costituzionalmente garantita, perché ponendomi davanti a una possibile verità, quale quella della commissione dei reati del genere, non mi sentivo in grado di poter difendere in maniera, nell'interesse del soggetto appunto che è imputato, i suoi interessi. E quindi, diciamo, questo attiena poi a quelle che sono le scelte ovviamente etiche e morali di ciascuno di noi. Però l'avvocato deve vincere le cause prima di tutto, ovviamente, nel rispetto sempre delle regole. Questo è molto importante. Etiche e morale che molto spesso costano sia nell'avvocatura che nella politica. Per questo, luoghi comuni, si dice che magari un avvocato di quelli che perseguono il successo personale, quindi quello del proprio cliente, spesso può essere un buon politico. Questo luogo comune, il Movimento 5 Stelle, come sta provando a romperlo? Nella politica, chiaramente. Ma te l'ho detto prima, è fondamentale questo elemento. Perché il 40 di più, perché alla fine siamo andati a votare il 52% delle persone. Sì, però con quasi il 2% di schede bianche e il 3-4% di schede nulle. Mezza città di Palermo ha comunque fatto capire chiaramente che non crede nella politica. Ma è questo. La grande zida che noi abbiamo è che il Movimento 5 Stelle ha proprio questa. Perché noi non siamo riusciti, mi faccio una domanda scomoda anche io, perché noi non siamo riusciti in questi mesi a convincere questi soggetti ad andare a votare e quindi a crescere la nostra percentuale, quindi la nostra incidenza sulla realtà palermitana. Noi la risposta ce la siamo data ed è abbastanza semplice. Perché purtroppo i cittadini sono stanchi di vedere i politici nel corso delle campagne elettorali e poi non vederli più nel corso delle normali giornate quando la campagna elettorale è lontana. Ci vorrebbe una campagna elettorale ogni due anni? Perché comunque le cose si sono... Cioè, nell'ultimo periodo Palermo vede tanti... Oppure ci vorrebbe, e il nostro progetto politico adesso è questo, una presenza sul territorio sempre e comunque lontana dalle campagne elettorali. Ed è quello che noi stiamo ora organizzando. Con le circoscrizioni. Nelle circoscrizioni, nei vari quartieri, con ora la possibilità di avere anche uomini dentro le istituzioni e quindi dare delle risposte. Perché noi, ricordatelo, noi siamo dei portavoce, io sono un portavoce, io sarò al Consiglio Comunale, ma io non esprimo il mio verbo. Io esprimo quella che è il volere, le considerazioni, il pieno d'azione della base. E quindi anche dei cittadini che verranno a pormi problemi, vorranno delle soluzioni, vorranno ovviamente un presidio dentro il Consiglio Comunale. Dopo questi cinque anni di Consiglio Comunale, che vedrai il Movimento 5 Stelle presente per la prima volta, come ha ricordato lei in più occasioni in questa nostra chiacchierata, conta di riprovarci? Ma anche questo è assolutamente prematuro. Il Movimento 5 Stelle sicuramente ci sarà. Noi abbiamo visto che in altre città siamo riusciti a vincere dopo un bel periodo, un percorso virtuoso anche dentro il Consiglio Comunale. Quindi la nostra presenza dentro il Consiglio Comunale sarà propedeutica sicuramente a migliorare anche la conoscenza, conoscibilità delle nostre azioni, la nostra credibilità in termini anche di competenza all'interno appunto dei luoghi istituzionali comunali. Poi ovviamente il Movimento 5 Stelle sceglierà il proprio candidato fra cinque anni. Sia io o uno degli altri duemila iscritti di Palermo, questo poco importa, nel senso che si sceglierà la persona più adeguata, che si riterrà opportuna, che però vincerà se il percorso in questi cinque anni è stato vincente, nel senso che ti ho detto... L'onestà pesa di più dell'esperienza? L'onestà è, diciamo, una precondizione che dovrebbe sempre esserci. La competenza è un ulteriore elemento fondamentale in cui, se disancori dall'onestà, abbiamo avuto tantissime persone competenti ma disoneste e che hanno agito in sistemi di tangenti e corruzioni, quindi la precondizione dell'onestà è sempre necessaria e ovvio che l'onestà da sola non basta perché bisogna avere anche persone competenti nel gestire la cosa pubblica, ovviamente in continuo contatto con i cittadini. CTS è dentro il Consiglio Comunale da un po' di tempo, noi mandiamo le sedute del Consiglio Comunale in diretta tv, sono fruibili a tutti i cittadini. Ci aspettiamo che il Movimento 5 Stelle porti anche i telefonini dentro la sala delle lapidi, nel senso che comunque che tipo di lavoro farete, a parte chiaramente quello politico, presentare istanze e quant'altro, quale sarà il vostro, perché tutti un po' hanno paura del vostro organo di controllo, diciamo. E si devono preoccupare assai, si devono preoccupare assai perché, diciamo, i cittadini avranno una lente di ingrandimento sulla istituzione, su quello che è l'organo, uno degli organi più importanti dell'amministrazione comunale, cioè sul Consiglio Comunale. L'operazione trasparenza è una delle fondamentali osperazioni che il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti e noi lo faremo ora in Consiglio Comunale. Noi saremo il ponte di comunicazione con i cittadini, un ponte diretto, un ponte continuo e valorizzeremo pure i vostri mezzi, diciamo, che adoperate. Quindi, visto che mi stai ricordando, perché lo sapevo, perché delle volte l'ho vista, sicuramente quelle che sono queste vostre riprese verranno riprese dai nostri canali social e condivise, perché più permettiamo ai cittadini di sapere, più rendiamo i cittadini consapevoli di quello che succede, maggiore sarà poi la possibilità insieme ai cittadini di elaborare delle soluzioni, perché, diciamoci la verità, i vecchi sistemi, soprattutto politici e partitici, tendono a, a nostro avviso, una volontà, quella di tenere sempre il cittadino sempre più ignorante, cioè al di sotto di quella che è un grado di conoscenza delle cose, mentre il nostro obiettivo è completamente diverso, un sistema di autoeducazione che porti i cittadini ad essere consapevoli di quello che c'è. E siamo convinti che ci divertiremo in questi anni in maniera leale e onesta a fare la nostra attività e a creare questo rapporto di fiducia con i cittadini. E ne siamo convinti anche noi, infatti rimandiamo, appena ricomincerà il Consiglio Comunale, i nostri telespettatori, appunto, sui nostri canali. L'ultima domanda è una domanda così, un pochettino provocatoria, anche se se l'è cavata benissimo in tutta questa puntata. Doveste accorgervi che, con questo genere di controllo, trasparenza che portate nei palazzi e nelle istituzioni, dove adesso state cominciando ad entrare, in realtà è un percorso che avviene già da qualche anno, doveste accorgervi che questo vostro lavoro non vi promette di vincere, ma migliora il politico che viene votato, eletto? Potrebbe essere considerato una vittoria oppure no? Io sono contento della tua domanda, perché è una cosa che è un po' successa in questa campagna elettorale, nel senso che noi abbiamo fatto, per primi abbiamo posto in essere un programma e abbiamo dettato nell'agenda politica di questa città alcune priorità. Ti faccio un esempio concreto, in queste priorità c'era la lotta alla povertà e le periferie e se tu vai a vedere come si è evoluta la campagna elettorale, fin quando noi non abbiamo posto l'attenzione a queste cose, il 25 febbraio di quest'anno, nessuno ne parlava, parlavano di altri problemi. Oggi è diventata, se tu vedi la proclamazione del sindaco uscente confermato ieri, oggi è diventata invece il cavallo di battaglia di tutti. Adesso, noi siamo convinti che questi personaggi non abbiano la credibilità di portare avanti queste cose perché lo dicono e poi non lo fanno, ma qualora mai lo riuscissero a fare, noi siamo contenti perché noi non siamo contro chi qualcuno, noi siamo per e a favore dei cittadini. Se arriveranno nel corso di questa amministrazione, cosa che purtroppo dubito per quello che è l'esperienza e quello che ha dimostrato finora il sindaco uscente e soprattutto la compagine che poi lo dovrà supportare, ma se si riusciranno a fare dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'interesse dei cittadini, migliorando la vivibilità e il modo di vivere dei cittadini palermitani, noi non saremo a gufare, noi saremo a favore di queste cose, quindi se noi riusciamo anche a contaminare altre realtà politiche per una maggiore pulizia della politica, per una politica che non sia più autoreferenziale, per una politica che parli più con i cittadini, ma certo che noi siamo contenti, perché il nostro interesse è quello, migliorare la vita di ciascuno di noi all'interno di una comunità, all'interno di un sistema solidale e sociale. Grazie mille, a Ugo Forello per essere stato con noi a Sautoscalco, che tornerà lunedì sempre qui alle 15 con un'altra bella intervista, un'altra bella partita, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.